Nel primo pomeriggio di ieri a Ponte Cagnano-Faiano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato nuovamente, sempre per detenzione di stupefacenti, Carlo Vitale, 48enne del luogo. L'uomo era ai domiciliari sia per l'arresto del 10 agosto 2017 quando venne trovato alla guida della sua auto con 1,2 kg di cocaina nascosta nella ruota di scorta sia per l'arresto di domenica scorsa, 28 gennaio, per essere stato trovato in possesso durante un controllo di 32 g di hashish e 590 euro. Nel corso di un nuovo controllo disposto ieri dalla compagnia di Batipaglia, i carabinieri di Ponte Cagnano hanno rinvenuto 35 g di hashish e due coltelli nascosti in un locale nei pressi dell'abitazione del 48enne. Carlo Vitale è stato rinchiuso nel carcere di Forni.